... Amici politica, l'atleta, Storici, Moreni, in direzione molto più bene, è stata scolificata per falsa partenza. Premiazione, Giacomo Soyuni, femmine, al terzo posto, la larga linea, davanti poi, al secondo, Cavallaro, Alice, Firenze, balla a moto, e vince, Delle, Alice, Giacomo, a Monteparchi. E sulla la partenza, la mattina 31, 50 ragazzi maschi, hanno due pazzarri d'Italia.